Basta, Diego! Un pallone per Tossiello, che lo gira! Cambiare la punta, il passaggio di Ponganella! Un pallone di questo stato, per il passaggio di Ponganella! Ponganella, cattia di Dinosoli, 1-0 per la luna! La punizione è stata calzata molto bene, girare la decisione l'Inter è rimasta passare e stati che è stato a Mourinho, e si è avversato prima con il Guadalina per la punizione da dove è stato unito i gol. è molto bene questa palla Diego